Live Sound Zero In collaborazione con Bad Box Giovedì 18 novembre 2010 Buonasera a tutti dal vostro Nico E benvenuti a Rocambolesco Sound Zero Qui con me c'è l'altro conduttore Paolo Buonasera a tutti E soprattutto qui con noi C'è la grande frontwoman Possiamo dire una Gianna Nannini Tutta in stile Baccano E lei appunto la cantante di questa stupenda tribute band Alla grande cantante italiana Gianna Nannini Se ci puoi fare una tua presentazione anche del gruppo Oh yes Ciao a tutti Buonasera Allora io sono Deborah La frontman come hai detto tu Del gruppo dei Baccano Vi presento questo gruppo che è nato ad aprile Quindi non è tantissimo Che comunque ci siamo E niente Un gruppo capitanato da me Ma con grandi musicisti Come David Pecchioli Che è attualmente in tour con Alessandra Moroso Poi abbiamo Andrea Bertini Che è fonico di grandi artisti come Marco Masini Patti Bravo eccetera Poi c'è Andrea Foreschi Un grandissimo chitarrista Abbiamo Danilo Fiorucci al basso Che è attualmente in tour con Zarrillo E Masini E poi abbiamo il nostro tasterista Che è Michele Scarabattoli Che è stato anche in tour con Lucio Dalla Quindi grandissimi musicisti Molti mari e fiumi Attraverserò Dentro la tua terra Mi ritroverai Tutti miei tempesti Io cavalcherò Volerò tra i fulmini Per averti Meravigliosa creatura Senzola al mondo Meravigliosa paura Di averti accanto Occhi di sole Mi tremano le parole Amore vita Meravigliosa Meravigliosa Luce dei miei occhi Brinda su di me Voglio mille lune Per accaressarti Panto dai tuoi sogni Meglio su di te Non svegliarti Non svegliarti Non svegliarti Svegliarti ancora Meravigliosa creatura Senzola al mondo Meravigliosa paura Di averti accanto Anche di sole Mi tremano le parole Amore vita Meravigliosa 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 Pasqua Meravigliosa Se ci dici quanti anni ha Lo dice ai nostri ascoltatori Allora Vi dico che lui è del 91 quindi pensate bene Ragazzi Diciamo che ci ha lasciato molto impressionati Questo batterista così giovane Con alle spalle una band Formata a musicisti di questo calibro E anche da una grande cantante Facciamogli i complimenti Grazie, grazie Meno male, meno male Qualcuno mi fa complimenti Grazie Quell'espressione malinconica E quel sorriso Ma cosa mi fai? Stai Così vicino Così male Parla qualcosa Non ti ascolto mai E non ti ascolto mai E non ti ascolto mai E non ti ascolto mai Non ti ascolto mai E non ti ascolto mai E non ti ascolto mai Mi dico che ti ascolto mai E non ti ascolto mai Quasi ti ascolto mai Non ti ascolto mai Tu? Sotto la giacca cosa avrai di più? Quando facerà il cuore si scatterà Mi va sulla scala e poi te lo darò Quello che sento, parlami al corazón Mi va schietti, se nienti, si metti Conformo, veri ne, ti miro Teve drine, ti e tre svax E che c'è per la notte a siano Bene, allora se vuoi ricordarci i prossimi appuntamenti con i Baccano Allora i prossimi appuntamenti con i Baccano E a memoria non ricordo Li potete trovare sul nostro MySpace Che è www.myspace.com Slash Baccano Oppure andate sul nostro Facebook Troverete tutti gli appuntamenti prossimi Ok, il nostro tour Ok, da Paolo E dal vostro Nico È tutto Ciao Ciao ragazzi, grazie Live Sound Zero In collaborazione con Bad Box